Quindi vedete se ci sono domande o questioni che volete aprire alla discussione. Forse è proprio un'apertura questa mattina. Ha menzionato quattro sveglie con suoni diversi. Ha detto in buddhista la sveglia c'è dentro. E la domanda è, le sveglie sono la nostra pratica? E nel tempo questa pratica è più interna e consapevole del momento. Il suono al vivo per cui ci abbiamo. Inizialmente si è diventato internazionato. Quindi siamo più consapevole del loro sveglia perché diventa parte di noi. Se immaginiamo di vivere magari negli antichi tempi in paesini tibetani, si potrebbe immaginare che il sentiero che porta ai villaggi ha anche queste mura con delle incisioni. con questi mantra che sono incisi all'interno. di solito all'ingresso dei villaggi c'era questo portale, questo cancello, questa porta di ingresso. e sul soffitto di questa porta di ingresso ci sarebbe stato un mandala dipinto con diverse divinità della meditazione. e forse ci sarebbe stato anche un muro con le ruote di preghiera. e anche degli stupa grossi stupa con catene e campanellini e anche queste preghiere in forma di bandiera. Nella casa ci sarebbe stato un tempietto con persone che si svegliano la mattina a dire delle preghiere. sulla collina ci sarebbe stato un tempio, un monastero. In questo tipo di ambiente ci sono tantissime, chiamiamole sveglie, cioè dei reminder. dei tempi che si svegliano gli avvoltoi. oppure dei luoghi dove ci sono corpi agli avvoltoi. in quel tipo di ambiente ci sono forti affermazioni. Ma per noi è molto diverso. Fuori non vediamo nessuno di questi reminder che ci invitano a praticare il Dharma. e quindi dobbiamo essere più attivi per poter creare questi memo che ci ricordano di praticare. E ci sono diverse cose che possiamo fare anche se non si ha magari molto tempo per fare della meditazione seduta. e magari anche una questione di temperamento ci sono persone che non riescono a riscaldarsi alla meditazione. ma la grossa sveglia è l'impermanenza. Per cui nella tradizione Zen in Giappone quando ti svegli quando ti svegli pensi questo è l'ultimo giorno della mia vita. questa è l'ultima tazza di caffè. l'ultima volta che mi lavo i denti. e questo ti porta ad una vicinanza più prossima rispetto a tutto quello che accade. i rumori, i suoni, i profumi. e questo ti permette di penetrare il flusso del tempo. l'ho fatto prima e lo rifarò ancora. posso lavarmi i denti pensando a qualcos'altro. però se questa è l'ultima volta però se questa è l'ultima volta questo è un sapore, questa è la tensione muscolare. e poi durante il giorno questa è l'ultima volta che faccio o vedo queste cose. quindi mentre sediamo in un caffè ad aspettare un amico vediamo gente che arriva e va come diceva Milarepa la nostra vita è come un mercato estivo in montagna. i trafficanti arrivano, i negozianti arrivano installano le loro tende vendono, comprano bevono della birra locale ci sono musica e balli la sera poi rimuovono la tenda caricano i cavalli, i yak e tutto quello che resta sono delle pietre con della cenere, del fuoco. questo lo facciamo quando entriamo in un caffè la stessa cosa la vediamo in un caffè la gente arriva, la gente va in un mercato settimanale nella tua città oppure c'è un mercato settimanale nella tua città possiamo vedere se ci svegliamo presto che appunto arrivano questi furgoncini e all'inizio della mattina presto tutto è molto lento e poi pian pianino diventa più intenso poi di nuovo rallenta poi viene tutto reimballato e vanno via e guarda la stalla e soprattutto le persone vendono i vestiti ma soprattutto se guardi alle le bancarelle di quelli che vendono i vestiti che sembrano non vendere mai nulla mettono questi fili a cui appendono vestiti, pantaloni e dopo 8 ore magari anche nel freddo tutto viene reimballato di nuovo hanno dovuto pagare delle tasse per utilizzare questo spazio e che cosa hanno ottenuto? è così che noi trascorriamo la nostra vita il fatto che incontriamo molte persone che non fanno il Dharma e non praticano il Dharma è un'enorme sveglia io ho l'insegnamento ho la pratica guarda com'è la gente diligente a perdere il suo tempo a sprecare il suo tempo mentre io ho questo oro e non lo tocco quindi in questo modo qualunque cosa noi incontriamo può essere per noi una grossa sveglia anche a livello esterno se osserviamo la politica, l'economia tutto è molto instabile questo campo di intelligenza artificiale si sta sviluppando in maniera esponenziale i robot stanno per arrivare ai robot e arriveranno in un momento in cui gli scambi economici saranno molto deboli in Europa quindi moltissimi perderanno il loro lavoro persone che hanno studiato, che si sono formate, che sono diventate esperte, competenti perché è sempre più economico avere una macchina per esempio gli azionisti delle aziende sono interessati nei profitti e quindi per quello la dignità di molti lavoratori, l'onore di molti lavoratori è semplicemente gettata via e allora eccoci rendiamo conto dell'impermanenza ci sono grossissime industrie che stanno collassando nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale la Cina sta minando l'economia ovunque questa è la co-origine dipendente che si manifesta nella vita delle persone quindi penso che la cosa più importante sia apprendere dei concetti buddhisti di base e vedere come la struttura del nostro mondo dimostra che sono veri questi concetti buddhisti ed ecco in che modo queste campane, queste svele sono intorno a noi di continuo ma io penso che soprattutto questa riflessione questo è l'ultimo giorno della mia vita allora che cos'è la cosa più importante da fare? se andassi dal dottore e ti dicessero hai tre mesi da vivere che cosa cambieresti nella tua vita? penso che indipendentemente della tua età anche se sia in piena salute questo sia una riflessione molto utile da fare perché quello che abbiamo visto è proprio il potere delle supposizioni delle assunzioni la supposizione è che io sarò sempre in salute che ho anni davanti a me e che tanto se non lo faccio oggi lo potrò fare domani ma questo potrebbe non essere vero quindi penso ecco sì ho tre mesi da vivere quindi voglio vedere queste persone voglio andare a visitare quel posto voglio andare nel mio ristorante preferito ascoltare della musica, dei cd di comfort questo mi permetterà di sentirmi meglio come un bambino piccolo e la sua peluccia ma poi muoio ma io morirò ha importanza se non se mangerò ancora questa questa bistecca speciale e un'altra bottiglia di buon vino di cosa ho bisogno? se lo mettiamo davanti a uno specchio come uno specchio del tempo davanti a noi nello Dzogchen si dice di essere rilassati al proprio agio ma questo non vuol dire essere pigri e evitanti non si tratta di sprecare il tempo perché se sei presente qui sei sempre nel cuore del tempo quindi penso che quel tipo di riflessione sia molto importante guardare davvero alla natura del tempo guardare davvero alla natura del tempo guardare davvero alla natura del tempo e seguirlo esserne consapevoli adesso il sole sta calando un'altra sera un'altra sera poi una notte una mattina se io mi dico quanto Dharma ho praticato oggi e non si tratta tanto di quantità ma piuttosto oggi ho vissuto nel Dharma quindi sono questi due aspetti principali la saggezza e la compassione ho afferrato cose in modo che nasconde la loro natura non nata mi sono sigillato all'interno delle mie preoccupazioni in modo tale che sono diventato impassibile rispetto alla sofferenza degli altri quindi lì possiamo vedere ho bisogno di essere rilassato, aperto è più risponsivo più reattivo non so se questo ti dice qualcosa risponde alla tua domanda penso che dipende anche dal nostro carattere per alcune persone la paura può far bene può essere utile mentre per altre persone la paura non fa assolutamente bene anzi, le rende ansiose potresti riflettere e dire sì, devo morire chissà quando non vivrò per sempre mi piace essere nato come essere umano non in Siria non in Africa non in Siria, non in Africa ma forse in Italia non voglio essere nato in una casa dove votano per Berlusconi sono interessati a questo tipo di sfruttamento non voglio essere nato in una casa dove sono interessati a questo tipo di sfruttamento voglio essere nato in una casa dove ci sono idee rispetto al Dharma dove le persone avranno dei pensieri dove le persone saranno pieni di pensieri generosi ora, con la popolazione dell'Italia allora la popolazione italiana quanti cari sarebbe utile nascere essere nati Parma Sambava forse un po' d'ansia potrebbe far bene forse un po' d'ansia potrebbe far bene perché se dico come si va bene dove sono ma forse no forse sei nato in una casa borghese dove c'è tanto da mangiare ma tuo padre è deciso a farti studiare pianoforte e dopo la scuola ecco due ore di pratica questo accade ai bambini non è molto utile per il Dharma quindi ci sono tanti modi in cui tanti tipi di ambiente che sostengono aiutano a sostenere che ti aiuteranno ad avere una vita buona dal punto di vista economico e sociale e dell'identità economica e sociale però potrebbero anche non aprire alcuno spazio per il Dharma quindi potrebbe essere un incoraggiamento a concentrare la mente sulla connessione della pratica quali altri pensieri e questioni che volete portare sollevare hai parlato dei quattro passi del karma hai parlato dei quattro passi del karma e hai detto quindi il karma si crea perché c'è una dualità no? un soggetto e un oggetto però nell'ultimo step negli ultimi due step se tu hai un ripensamento ma al fine tu hai detto che se ti iniziare a regretare o pensare o pensare il karma potresti dissolvere un po' del tuo karma si, potresti dissolvere un po' del tuo karma il karma è neutro cioè o è negativo o dissolve un positivo o negativo il karma è neutro o è negativo 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 è negativo il neutrale non viene visto come karma il neutrale di solito non viene visto come karma ma quando si vede al passato ma quando siamo su un sentiero di montagna per esempio qui potremmo magari stare ammirando la fioritura sugli alberi e diciamo bello, è bello non è che vogliamo prenderlo diciamo semplicemente bello non è che vogliamo prenderlo però in quel momento si sta affermando in maniera sottile è una forma di dualità quindi in questa discussione riguardo alla natura della sofferenza c'è la sofferenza della sofferenza che è una specie di reumatismo che è una specie di reumatismo soffri perché soffri quindi è doloroso poi c'è la sofferenza del cambiamento dove le buone situazioni si trasformano in cattive situazioni ma anche dove cattive situazioni si trasformano in buone perché i cambiamenti disturbano ma ci sono anche altre categorizzazioni della sofferenza e viene descritta come sofferenza sottile e si dice se tu dovessi avere sul palmo della mano un granello di sabbia non lo sentiresti ma per qualcuno che è quasi un Buddha quello stesso evento sarebbe come avere quel granello di sabbia nell'occhio perché stanno diventando più sensibili, più consapevoli quindi in quel senso quella karma sottile della verifica dualistica sta creando una sofferenza sottile che è quasi invisibile per noi ma rinforza quel quadro, quella cornice all'interno della quale sorgono le forme di karma più pericolose per esempio l'albero è bello non sono cieco, sono in grado di apprezzare l'albero la moglie del mio migliore amico è bella oh il mio migliore amico sta partendo e allora ecco che cominciano a partire dei pensieri forse posso fare qualcosa entrambe le situazioni stanno iniziando con un semplice apprezzamento ma quel soggetto oggetto e quella connessione tra di loro diventano un sentiero in cui si può manifestare un desiderio quindi tutte le volte che diciamo guarda l'albero come bello se ci limitiamo a rilassarci nell'espirazione e ci apriamo beviamo l'intera cosa però non prendiamo nulla non c'è motivo, non ha senso fare una fotografia prendere il telefono e fare una foto quindi non è che stiamo bloccando l'esperienza e non siamo neanche neutri rispetto all'esperienza c'è emozione, c'è una finezza estetica che sta emergendo rispetto a quella cosa lì però vediamo in maniera diretta l'inafferrabilità e lasciamo andare, è andata e più ci accorgiamo di questo sei a casa del tuo migliore amico e la moglie del tuo migliore amico si stende e vedi la forma meravigliosa del suo sedere l'acquittà è una bella cosa però quando cominci a pensare questo è una persona la voglio potrei vederlo, ottenerla non è che dobbiamo diventare monaci o monache l'evitamento non è una grande protezione l'evitamento non è una grande protezione ma è vedere il fenomeno come parte del campo di esperienza e non lo portiamo via, non lo rimuoviamo dal contesto che è un contesto integrato certamente è difficile da fare perché abbiamo tutte le nostre inclinazioni per cui ad esempio Shantideva questo grande scrittore induista indiano, scusate diceva i vostri nemici sono i vostri migliori amici perché vi fanno vedere la vostra rabbia i vostri amici sono carini con voi e vi sentite bene con i vostri amici e quindi in quel caso la rabbia rimane nascosta ma il nemico vi attacca e va ad agitare il fondo dello stagno, della ghetto e lì vengono a galla tutti i vermi e tutte le foglie marce quindi dal punto di vista della pratica dobbiamo essere molto grati perché allora vediamo che questo è qui e sta lavorando non ovviamente incolpando ma è la stessa cosa col desiderio la questione non è tanto quella meravigliosa forma del corpo ma che cosa suscita in me questo è il mio desiderio posso notare come questi paraocchi come quelli che hanno i cavalli quando vanno in città ora il mio sguardo si fissa con intensità proprio là cos'è che mi sta accadendo sto dimenticando il resto della mia vita sto diventando ossessionato sto investendo l'energia della mia vita in questa persona in questa persona sicché loro stanno iniziando a risplendere nessun altro si sta girando a guardare a quella persona loro stanno risplendendo per me perché li sto lucidando io questo è qualcosa che sto facendo io questo sorgere di questi forti veleni perché ci fanno vedere la struttura della mente della nostra mente ecco perché esporsi alla vita è utile ecco perché esporsi alla vita è utile non so in Italia ma in Inghilterra si scrivono le storie più orribili uno dei temi più comuni è il fatto che magari l'uomo sia stato orribile nei confronti della sua donna e lei dice per cui la donna dice basta non ne posso più ma ne vado poi lui la uccide anche i bambini uccide se stesso questo è incredibile in situazioni di questo tipo dovremmo immaginare lo stato la condizione di quell'uomo se non posso averti nessuno ti avrà torno morirei che non lasciarti libero non voglio vivere se so che tu sei con qualcun altro a divertirti e allora riusciamo a capire com'è che le nostre menti funzionano il desiderio di distruggere la situazione che prendo come specchio della mia personale inadeguatezza penso che leggere di queste storie sia utile per noi meditanti io personalmente non credo che esista questo qualcosa come cattive persone ma soltanto che le persone entrano nell'abitudine di fare delle cattive azioni che trovano difficile controllare i loro impulsi sicuramente a un certo livello c'è molta differenza tra l'impulso di voler colpire qualcuno perché sei stato insultato e l'impulso di prendere un'altra fetta di torta al cioccolato perché è buona però in entrambe le situazioni l'azione non era necessaria quindi quando ti ritrovi a mangiare una seconda fetta di torta c'è una specie di scivolamento nella torta c'è una specie di scivolamento nella torta non c'è molto vino qui nella bottiglia permettiamo all'oggetto di fluire dentro di noi quindi chi non ha controllo e più soggetto alla provocazione potrebbe davvero colpire e questo è il perdersi è il soggetto che si sta perdendo nell'oggetto e questo di solito implica una decontestualizzazione perdiamo il contatto con l'ambiente in cui ci troviamo e l'oggetto diventa sempre più grande, sempre più potente, sempre più forte così devo certamente non devo ma devo siamo sempre lì al solito biblio quali sono i fattori che ci fanno piegare verso che ci portano, ci spingono verso l'attivazione e l'azione quando potremmo semplicemente lasciare andare se abbiamo molti traumi che derivano dall'infanzia per esempio se ci sono stati insulti, umiliazioni forse magari sono stati colpiti perché stavano piangendo e poi lasciati a piangere la loro pelle psicologica è molto sottile quindi diventano ipersensibili potremmo dire qualcosa hanno fatto qualcosa di spiacevole ma se tu sei molto sensibile immediatamente ti attivi quindi possiamo dire come tutte le pratiche di dharma dalle riflessioni più generali della tradizione mahayana e cioè possano tutti gli esseri essere felici parlano sempre di contesti si riferiscono sempre a contesti e a connessioni io sono parte di questo sono qui con voi voi siete parte di questo siamo in questo tutti insieme e quando ci troviamo in uno stato mentale in un brutto stato mentale entriamo in un isolamento e il mondo visto da una colazione di isolamento, di frustrazione, di solitudine è molto diverso è molto diverso rispetto ad un contesto dove c'è sostegno da parte della famiglia quindi forse potremmo non essere in grado di aiutare qualcuno per via diretta ma la loro sofferenza quando ci riflettiamo può approfondire la nostra comprensione del dharma in modo tale che questo porti la fioritura della consapevolezza e della compassione e questo ci permetterà di relazionarci con altre persone in un modo che sia di beneficio in un modo che sia di beneficio ok, questo è il nostro momento di stop per il giorno è arrivato il momento di modere e come sapete i giorni cambiano oggi questa notte, come sapete, ci sarà il cambio dell'ora quindi ci sarà il cambio dell'ora